In occasione del ventesimo Gran Premio Fabbi Imola sarà aperto e visitabile da parte di tutti anche il Museo Chico Costa, inaugurato nel 2014 qui all'autodromo Infedino Ferrari di Imola. In questi giorni, da aprile, è disponibile e visitabile la mostra 100 anni in sella, una mostra dedicata alla storia del ciclismo, dal velocipio e dalle bici bianche. È una mostra che c'è quest'anno in occasione del passaggio del Giro d'Italia qui da Imola, infatti il 20 maggio si è conclusa qui una tappa del Giro d'Italia, è un bel modo anche per tutti gli appassionati per entrare sempre più in confidenza con il mondo del ciclismo in una location suggestiva che tutti immaginano per auto e moto, ma in realtà rappresenta anche la storia del ciclismo, a partire dalla 68 dei mondiali di Adorni, ma anche adesso con la settimana tricolore del 2009 e con la tappa del Giro d'Italia di quest'anno. Un rapporto che va avanti da vent'anni anche con soddisfazione con noi della ciclistica a San Diego e ringraziamo l'autodromo per questa occasione, per questa disponibilità.